numero 5 la stufa a legna long old fire bordeaux è la scelta ideale per coloro che desiderano una soluzione di riscaldamento efficiente e di design per la propria casa con la sua potenza di 8 kilowatt questa stufa è in grado di riscaldare ambienti fino a 100 metri cubi garantendo calore e comfort anche nelle giornate più fredde una delle caratteristiche più interessanti di questa stufa è il suo comodo vano per contenere la legna questo permette di mantenere a portata di mano il combustibile necessario per alimentare la stufa evitando di dover fare frequenti viaggi al magazzino per rifornirsi di legna trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 4 la stufa a legna con forno della marca balkan energy è un prodotto di alta qualità che unisce eleganza e funzionalità con dimensioni di 990 per 510 per 420 millimetri si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico il focolare con dimensioni di 295 per 400 per 290 millimetri è progettato per massimizzare l'efficienza di combustione e garantire un riscaldamento uniforme della superficie la camera di combustione è rinforzata con mattoni refrattari che accumulano calore permettendo di raggiungere una temperatura di combustione ottimale trovi il link di questo articolo in descrizione numero 3 la stufa è il compagno perfetto per combattere il freddo in inverno non solo riscalda efficacemente e rapidamente l'ambiente ma offre anche la comodità di poter cucinare sulla piastra o nel forno integrato questa versatilità è sicuramente uno dei suoi punti di forza tuttavia bisogna notare che la qualità costruttiva non è eccezionale durante il montaggio ci si accorge che i fori per il fissaggio delle gambe richiedono filettature fortunatamente il prezzo di questa stufa è contenuto il che la rende accessibile a molti se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 2 questa stufa è un vero gioiellino offrendo non solo un'ottima efficienza energetica ma anche una distribuzione rapida e uniforme del calore consuma solo una piccola quantità di legna il che la rende ecologica ed economica tuttavia c'è un piccolo inconveniente ogni volta che si apre il portello della stufa si rischia di sporcare il pavimento con la cenere è un dettaglio fastidioso da tenere in considerazione ma fortunatamente può essere risolto facilmente con un tappetino o un vassuio sotto la stufa acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 1 questa stufa si dimostra un vero gioiello di efficienza con grande abilità riesce a riscaldare l'ambiente in modo ottimale garantendo un consumo di legna estremamente contenuto non solo ma si può apprezzare anche il suo impegno nel rispettare appieno le rigide normative europee in tema di emissioni tuttavia se c'è un aspetto su cui fare una piccola attenzione e il suo prezzo potrebbe risultare un po impegnativo nonostante ciò non possiamo esimerci dal definire questa stufa come eccellente in ogni aspetto in descrizione trovi il link di questo prodotto